Andrea Agnassi, sindaco di Rimini. Quale modello offre Rimini in termini di modelli positivi per i giovani, parlando di divertimento? Intanto la nostra è una società così veloce che forse bisognerebbe anche superare l'idea di modelli che si applicano come vestiti su misura per una società che cambia forma ogni volta. L'idea di una città che non guarda i giovani con quella retorica a volte anche conservatrice, che porta appunto la società a guardare i giovani a volte come giovani che sbagliano o giovani che cedono, ma offre semmai contesti di opportunità dove sviluppare una propria dimensione di senso, una propria dimensione di vita. È molto facile fare della retorica quando si parla di giovani. Quando parlo di opportunità per offrire un senso ad una propria prospettiva, ovviamente mi riferisco ai luoghi dell'educazione, alla famiglia, alla scuola, ma anche ad una città, ad un quartiere che può coniugare il percorso scolastico di un ragazzo con il cosa fai nel pomeriggio o la sera perché trovi magari un'officina creativa dove poter cimentarti rispetto al tuo talento, che è un talento che magari ha a che fare con le mani, quanti giovani magari lavorano con le mani sulla meccanica fin da ragazzini o quanti giovani oggi ad esempio lavorano con il web o possono lavorare con il web. Allora un contesto di opportunità è un contesto intelligente che non guarda i giovani come un segmento da bacchettare oppure a cui rivolgersi quando c'è da dare una morale, ma offre cose concrete da fare.